Prime elezioni del Carnevale veronese. A Montorio, ieri, mille persone sono andate a votare per scegliere il re Magneron, maschera della frazione in Vals 40. Il nuovo sovrano dell'ottava circoscrizione è il Bulo, al secolo Marco Montogli. Il sovrano del Carnevale del quartiere dell'ottava circoscrizione, abbattuto con 533 voti, Luigi Antonini. E a San Michele è stato detto Mastro Sogar, Roberto Olivati, detto il vichingo.